Con questa celebrazione, questa è l'omelia che lui ha fatto, un pezzettino dell'omelia che lui ha fatto al giubileo del 2000 per gli atleti, allo stadio olimpico c'erano tutti gli atleti e i grandi nazionali e dal mondo intero e lui tra le altre cose grandi ha detto questa Con questa celebrazione il mondo dello sport si unisce come un grandioso coro per esprimere attraverso, sentite bene, questa è la cosa profonda La preghiera, il canto, il gioco, il movimento in un inno di lode di ringraziamento al Signore è l'occasione propizia per rendere grazie a Dio per il dono dello sport in cui l'uomo esercita il corpo, l'intelligenza, la volontà riconoscendo in queste sue capacità altri tanti doni del suo creatore La cosa stupenda è questa, forse la mia vera passione non è lo sport, è la preghiera Giovanni Paolo II, ho capito perché poi nella suo disegno di tradizionale il Signore ha voluto che mi occupassi anche di questo Perché lui fa questo paragone articolo, potremmo dire quasi di vera, ma dice così, lo ripeto Paragona la preghiera, il canto, il gioco, il movimento in un inno di loro ringraziamento al Signore Cioè quello che i ragazzi fanno quando è fatto per Dio è preghiera e lode, questo è molto bello e molto vero E abbiamo tutti sempre a mente, i nostri ragazzi, quando con lealtà si misura in una competizione sportiva l'odiano Dio Cioè pregano, e questo per me il sacerdote Don Pietro è molto importante Vi ringrazio tutti, l'odio di Don Pietro mi associa perché lo sappiamo tra tutti i sacerdoti E' per noi uno stimolo, un esempio, un modello e soprattutto un fratello disponibile in tante necessità E questa amicizia per me, anche se a distanza qualche volta, me la parlo anche nella quale sono più spesso a parlare Per fare incontri, è quella nella quale vengo sempre volentieri E spero di venirci qualche volta per giocare a noi su questo tuo convento, grazie Carissimo Luigi, Presidente del Comitato Provinciale del CSI Buonasera a tutti, grazie Don Pietro Inizio pure io con un piccolo omaggio Vi consegno la pubblicazione di Don Claudio Paganini, Analia a traito di Dio Don Claudio è l'assistente nazionale del CSI E consegno anche questo pallone Che in effetti stiamo un po' consegnando, donando a tutte le nostre associazioni Perché il pallone che la gazzetta dello sport ha regalato al CSI Il pallone della finale del 2006 Italia-Francia E quindi abbiamo pensato che era questa l'occasione per donarvi il pallone come oratorio Il CSI, il CSI, Don Pietro, lo sapete, lo diciamo per tutti E' al di là di un ente di connessione sportiva Una situazione di ispirazione cristiana Che è nata, ha mostrato i primi passi proprio nella Chiesa Nell'ambito ecclesiastico E come tale in questo ambito vogliamo esprimere tutta la nostra potenzialità Educare attraverso lo sport non è solo uno slogan per noi E' qualcosa di più E' qualcosa da dare ad animatura ai ragazzi Dare un progetto di vita Un modo d'essere che non si firma soltanto alle apparenze ma va oltre E io devo ringraziarvi, devo ringraziare questa parrocchia, Don Pietro, lo stesso Don Giolano Che da qualche anno ci sta, stiamo veramente cercando di portare avanti un progetto per questo territorio Per la provincia, non a caso siamo tra i comitati della campagna che hanno tesserato il tuo parrocchio Proprio perché noi abbiamo questo aiuto particolare Ma soprattutto perché crediamo che questa sia la strada per aggregare i ragazzi, aggregare i giovani E portarli verso una società più di valori umani solidi e importanti Per cui mi fermo qua, faccio tanti auguri, un bocca al lupo, grazie Don Pietro, grazie a tutti Bene, proprio con Sini ci siamo così associati Il nostro oratorio San Francesco aderisce a questa importante associazione sportiva E tra l'altro proprio il nostro oratorio è stato protagonista due anni fa Della vittoria dell'oratorio K a livello nazionale Questa sera i nostri giovani affronteranno i giovani del dottor Casale I giovani del carissimo Antonio, i giovani della Fernandez Per cui do adesso la parola ad Antonio e poi proseguiremo con il rito di benedizio Non si avvicinano Eric, venite avanti Si sono preparati, stanno riscaldando Anche perché l'ultima volta che i ragazzi di Don Pietro sono venuti al centro Hanno perso 8 a 0 Adesso si sono previsti l'obiettivo di farvi un 20 a 0 E quindi io ringrazio Don Pietro che è tra le prime persone Che è stato vicino a questa opera grande della diocesi di Cabra Questa è un'opera segno della diocesi Perché ha tra le sue finalità quelle di essere una sorta di infaro sulla montagna Per dire a tutti che non bisogna mai dimenticare o abbandonare o respingere lo straniero Sono proprio le parole di Giovanni Paolo II dette a Capua in Piazza dei Giudici E quasi profeticamente il Papa Giovanni Paolo II chiedeva ai cristiani di Capua Non respingete lo straniero Rifiutate come indegna dell'uomo questa tentazione A pochi anni di distanza nasce il centro immigrati Campania a Castelliotto E devo dire che la prima cosa che facemmo dopo aver attrezzato le camere da letto e la sala menza Fu la chiesa e il campo sportivo Eppure qualcuno poteva avere qualcosa da ridire Che in una zona così difficile tra tanti problemi legati a un'immigrazione complessivamente in numero esorbitante Noi pensassimo al campo di calcetto Ebbene quella è stata la chiave di volta di tutta la nostra attività Perché non basta il piatto di pasta, non basta la coperta Non bastano le visite mediche che facciamo quotidianamente Sono 60-70 visite al giorno 200 pasti, 200 persone a dormire Tutto questo che è grande e molto significativo Però non è paragonabile al dono dello sport gratuito Al linguaggio universale che quel campo di calcio al centro Fernandez rappresenta Per chi attraversa la Domiziana Per chi si ferma a guardare i ragazzi che giocano E scopre al di là del colore della pelle Al di là di tutti i pregiudizi che ci sono sugli immigrati Scopre che ci sono dei ragazzi buoni, generosi, aperti alla vita come sono loro Quindi grazie a Don Pietro che ci dà quest'occasione per confermare Che quella scelta di 10-13 anni fa Fu una scelta importante nel segno della vera carità E proprio sulla carità vorrei ricordare le parole di Benedetto XVI Che ha detto nella sua prima enciclica La carità, il programma del cristiano è un cuore che vede Direi che non basta il cuore Col cuore si possono fare tante cose belle Ma si possono fare anche tanti orrui Dice il Papa ci vuole un cuore che vede E la nostra opera, l'opera di Dio Impietro È proprio questo cuore Che però ha anche occhi molto attenti Ai veri bisogni delle persone Spesso noi ci sbagliamo Dobbiamo andare oltre le apparenze E saper vedere E saper capire Che dentro questi ragazzi Nella loro attività Nell'accoglienza che noi facciamo C'è il nostro futuro E perciò grazie e auguri Tra l'altro ho detto il carissimo Antonio Che questa sera i giovani del Fernando Si giocheranno con la prima divisa La prima, la più antica E dunque anche la più importante Però hanno giustamente chiesto Che si possa fare questo gemellaggio Noi ogni tanto andiamo a trovare Antonio Casale Almeno una volta all'anno in quaresima Per far conoscere il centro immigrato di Campania Ai giovani dell'oratorio E in una prossima visita Allora ci impegniamo a portare A divisa nuova di calcetto Ai giovani del centro immigrato di Campania Grazie